Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come L'imprenditrice Chiara Ferragni ha raccontato cosa sta vivendo in questi giorni il marito Fedez Poche ore fa Fedez ha reso nota la notizia di avere una malattia Ha pubblicato alcune stories su Instagram, dove ha spiegato che dopo una visita ha scoperto di avere una brutta malattia e questo significa che dovrà iniziare una terapia Ha spiegato che, per fortuna, è stata trovata in tempo e che ha intenzione di raccontare il percorso che affronterà tramite i social, come ha sempre fatto per tutti gli eventi importanti della sua vita Nessuno si aspettava una notizia del genere e tutti sono rimasti sconvolti La confessione del cantante, poi, è stata particolarmente commovente, dal momento che lui stesso ha versato qualche lacrima mentre spiegava come stanno le cose Nelle ultime ore, inoltre, anche Chiara Ferragni ha voluto raccontare un po' della delicata situazione che tutta la famiglia sta passando Ha deciso di farlo anche lei tramite i social, con un post molto commovente Ecco che cosa ha rivelato.Malattia Fedez, la testimonianza di Chiara Ferragni Come tutti sanno, certamente Fedez e Chiara Ferragni formano una delle coppie più famose del web Si sono messi insieme nel 2016 e nel 2018 si sono sposati, con una indimenticabile cerimonia noto, in Sicilia Oggi sono genitori di due bellissimi bambini, Leone, che ha tre anni, e Vittoria, che sta per compierne uno La vita dei Ferragni è sempre apparsa meravigliosa agli occhi dei fan, marito e moglie, infatti, hanno qualunque cosa possano desiderare, dall'amore a una carriera di grande successo Tuttavia, non sempre le cose vanno come previsto e questa volta è toccato al rapper L'artista ha dimostrato di avere un grande coraggio nel decidere di parlare a cuore aperto della sua condizione e ha detto di ritenersi fortunato perché avrà delle bellissime persone al suo fianco durante questo difficile percorso A tal proposito, anche la compagna ha voluto esprimersi. L'amore della mia vita ha bisogno di un grande supporto extra in questi giorni Ti amiamo più che mai, amore mio, e guarirai presto, sempre circondato dall'amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti vogliono tantissimo bene Queste sono le parole che la regina di Instagram ha scritto, in inglese, sotto l'ultimo post che ha pubblicato Non possiamo che offrire anche noi a tutta la famiglia un grande supporto e augurare al cantante di guarire molto presto e di non lasciarsi abbattere Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video